Siamo qui domenica 21 ottobre, il team WFG 100 divisioni è alla terza vittoria in quattro locali. Gianluca Lambiara è uno dei protagonisti di questa squadra, ci analizza un po' il momento positivo con anche il fatto di sbloccare Zammu dopo un periodo negativo. Abbiamo ritornato un buon Zammu, finalmente è tornato in trompe, per ora il cammino è buono, quattro partite e nove punti, speriamo di continuare questo. Contro la gol del team c'è stato un po' di sportunio, un po' di indecisione, comunque anche lì si poteva fare un risultato positivo. Va bene, andata così ci accontentiamo, è un nostro problema, quattro partite e nove punti, siamo una parte alta da pericolosi. Un attimo c'è anche Zammu, lo chiamiamo per una battuta rapida anche con lui, stavamo dicendo con Gianluca Lambiara Quattro partite, l'inizio positivo della squadra, un tuo meno brillante per partire, adesso anche di sbloccare, la squadra può andare molto in atto. Ci sono delle giornate in cui della Totti Totti, oggi è stato così, 15-11 tir sono andato a Totti, tutto dipende da come inizia. Comunque la squadra c'è, il gruppo quest'anno lo vedo più compatto, UEFA il gruppo Centro Revisioni, che può dire la sua, può fodere anche la Serie A. Abbiamo sistemato il reparto a retrato, con un portiere che sta in forma e un difensore centrale che ha un calcone in giro. Quindi quest'anno c'è un giorno divertissimo il Centro Revisioni? Sicuramente, almeno tra giochi a me. Complimenti e ti facciamo la cura di fare sempre il otto gol da partita. Grazie.